Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Apriamo, non possiamo fare altrimenti, con quello che è accaduto in Toscana nelle ultime ore, con quello che comunque sta ancora accadendo, una regione flagellata dal maltempo. Purtroppo ci sono stati anche dei morti e allora il servizio, il primo servizio è di Chiara Sadotti. Emergenza di cosa ha bisogno? Sì, buonasera, senta, io ho mia sorella e mia niposa, penso che ci sono state nominate, erano in macchina. Le chiamate al numero unico di emergenza 112 e le immagini della furia della tempesta Charan che si è abbattuta su gran parte della regione. Erano almeno 50 anni che non pioveva con questa intensità in Toscana, dove in tre ore sono caduti 190 mm di acqua. Sto salendo al piano terra l'acqua. Tra le province più colpite della Toscana, quella di Prato, Pistoia e il Fiorentino. Il presidente della regione, Eugenio Gianni, ha annunciato che dopo aver firmato lo stato di emergenza regionale, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera allo stato di emergenza nazionale per la Toscana. Prevede che nella Toscana vi sia una condizione di emergenza e di intervento straordinario in sette delle dieci province della Toscana. Firenze, Pisa, Livorno, Prato, Pistoia, Lucca, Massa. Scongiurata l'esondazione dell'Arno a preoccupare adesso, dopo i violenti nubifragi, è il forte vento. Ma io confido che il carattere dei Toscani, la nostra determinazione anche sul piano istituzionale, la protezione civile, lavora a tutti i livelli e gli effetti e siamo in contatto con la protezione civile nazionale proprio perché mezzi anfibi, elicotteri, capacità di far defluire attraverso l'idrovore e le acque darà una risposta che vede la Toscana reagire e avere la capacità di tornare al più presto alla normalità. Lo stato di emergenza nazionale ci consentirà anche di risarcire e di operare a sostegno di quelle famiglie sono con loro e con il loro dramma che sono state colpite anche dalla rovina dei loro beni e con le imprese, soprattutto nell'area fratese sappiamo quanto una piccola e media impresa si diffonde sul territorio e ha subito gravissimi danni. La Toscana è forte e come istituzioni sapremo poter reagire. E nella notte scorsa il coordinamento regionale ha attivato il nucleo delle maxi emergenze a retino proprio per interventi nelle aree della Toscana flagellate dalle alluvioni. Sono cinque le ambulanze che hanno appunto raggiunto le zone colpite dal maltempo, due montate in mezzi 4x4 e 15 i soccorritori impegnati durante appunto questa lunga notte in supporto anche ai vigili del fuoco a retini che hanno a loro volta chiaramente raggiunto le zone alluvionate. Veniamo invece al territorio della provincia di Arezzo, nel nostro caso non è stata l'acqua o la pioggia a creare i maggiori danni ma sono state le raffiche di vento, alcune addirittura hanno superato i 100 km orari. Durante la notte sono stati tanti gli interventi da parte dei vigili del fuoco per liberare le strade dai tanti alberi che erano caduti appunto sulla sede stradale, interventi coadiuvati anche dai volontari della racchetta. È stata una notte impegnativa, scrivono loro stessi nei loro profili social per la nostra sezione uscita su attivazione proprio del COC fin dalle 21 di ieri per appunto numerosi interventi, uno di questi addirittura un albero che era caduto sopra un'automobile e soltanto per un miracolo il suo occupante non è rimasto ferito. Insomma interventi davvero un po' in tutto il territorio ma le zone maggiormente colpite sono state la Valdichiana, il comune di Civitella in Valdichiana per la precisione e in Casentino invece la frazione di Pieve a Socana nel comune di Castel Focognano. Il nostro racconto. Ha visto alzare la gronda e è andata giù. Poi sono andato a chiudere la persiana che c'è una persiana aperta non ho fatto manco tempo a aprire la cosa e mi buttava via ogni cosa. Grossi alberi divelti, tetti scoperchiati, addirittura un'azienda che è stata colpita da un grosso albero proprio qui a Pieve al Toppo. Sembra essere proprio il comune di Civitella in Valdichiana tra i più colpiti dall'ondata di maltempo che ha interessato anche la provincia di Arezzo. Nell'Arettino sono state le raffiche di vento alcune, oltre 100 km orari, a causare i maggiori danni. Si riusciva nemmeno a tenere le persiane chiuse proprio perché il vento spingeva verso la casa. I vetri uguali, poi ha iniziato a piovere nelle stanze. Ad Olmo, alle porte di Arezzo, è stata divelta la copertura di un capannone mentre a Pieve al Toppo, a Civitella in Valdichiana, un calzaturificio è stato colpito da un pino. Si è cercato di portare fuori i scatoloni con il prodotto finito. Te l'hanno portato via più di 600 paio di scarpe, però c'è rimasto il semi lavorato e parte del lavorato è ancora in mano via. E ancora tetti scoperchiati, alberi secolari buttati giù come birilli. Qui siamo a Pieve a Socana, frazione del comune di Castelfocognano in Casentino. Una cosa tremenda, sembrava quasi un sisma. 10 secondi, 20, esagerare, però con una violenza estrema e ho avuto anche paura. Decine le famiglie rimaste senza corrente elettrica per ore. Alla fine supereranno quota 100 gli interventi dei vigili del fuoco e dei volontari della racchetta in una notte che lascia dietro di sé innumerevoli ferite. Tutti i denti da risistemare sperando che si calmi, perché ancora mi sembra che ne abbia tanta voglia di calmarsi. Allora per quello che riguarda la viabilità soprattutto nel comune di Civitella e in Valdichiana rimangono ancora alcune criticità per via dei boschi e via del colle che come abbiamo appena visto nel servizio appunto sono state interessate dal crollo di grossi alberi. Per quello che riguarda invece purtroppo le previsioni meteo non raccontano, non promettono nulla di buono perché sono previste condizioni di instabilità anche per tutta la regione toscana fino a domenica 5 novembre. Oltre a confermare i codici arancioni messi ieri, la sala operativa di protezione civile regionale precisa che nella vigilanza che riguarda la giornata di domani, dunque sabato 4 novembre sarà valutato l'evolversi della situazione con eventuale innalzamento di tutti i livelli di rischio. Una nuova perturbazione infatti è attesa proprio tra la sera di domani e la prima parte di domenica. Allora questa mattina c'è stata una ricognizione anche perché insomma vive e lavora in quel territorio da parte del consigliere regionale di Fratelli Italia Gabriele Veneri che è appunto andato a verificare di persona quali erano le condizioni del territorio a retino. Il consigliere del territorio tra l'altro abita proprio in uno dei comuni e lavora in uno dei comuni più colpiti da questa ondata di maltempo. Nella nostra zona è stato il vento a fare i danni maggiori. Lei ha fatto una ricognizione, l'abbiamo visto sul territorio. Sì, io questa mattina ho fatto un giro qui nella Val di Chiana, zona Badialpino, Pievaltoppo, Tegoleto che è stata diciamo una delle zone più colpite da questo forte vento che ha fatto dei grandi danni perché ha battuto alberi anche centenari, oserei dire, ho visto tronchi rotti in due e in alcuni casi sono andati proprio a colpire delle abitazioni, delle civili abitazioni piuttosto che delle attività produttive, oltre che creare danni a automezzi vari, insomma direi che è un problema grande. Nel resto della Toscana il problema è stato maggiore perché anziché il vento a colpire è stato proprio l'acqua sono esondati vari fiumi nelle zone di Campi Bisenzio, Pistoia, Prato. La cosa peggiore è che ci sono state anche delle vittime e quindi nella zona soprattutto del Fiorentino, del Pistoiese e questo è il problema più grande. I danni purtroppo sono stati inevitabili e come sempre le popolazioni si dovranno dare da fare per ricostruire e la nostra vicinanza è soprattutto le famiglie delle vittime che in questo momento insomma stanno vivendo momenti veramente drammatici. Nei nostri servizi vi abbiamo parlato delle tante famiglie rimaste senza corrente elettrica, il problema ancora permane, alle 16.30 era però stato dimezzato il numero delle utenze da parte di Enel Energia che sono appunto rimaste senza corrente elettrica scese a circa 20.000 ovviamente in tutta la regione toscana per fronteggiare le conseguenze di questo blackout. Il contingente attivo da ieri è stato incrementato per un totale di circa 500 persone al lavoro provenienti anche da altre regioni, 70 i gruppi elettrogeni utilizzati. Comunque si ricorda che c'è un numero verde attivo H24 per poter segnalare ancora i guasti in essere ovvero 8.03.500. E allora il maltempo fa cambiare un po' anche le manifestazioni che sono previste per domani 4 novembre anche nell'Aretino per il giorno che appunto ricorda le Forze Armate e l'Unità Nazionale. Alle 10.15 come di consueto presso il Sacrario Militare di Via dell'Anfiteatro ci sarà la deposizione di una corona di alloro. Poi la restante parte delle celebrazioni proseguirà invece all'interno del Salone d'Onore del Palazzo della Prefettura. Anche l'agricoltura in ginocchio per questa ondata di maltempo. C'è l'intervento di Marco Neri, presidente di Confagricoltura Toscana, proprio in riferimento alle conseguenze del maltempo. Poi intanto la vicinanza alle vittime ma poi, spiega il presidente, quello che si è verificato è quello che gli agricoltori denunciano da tempo ovvero cambiamenti tanto rapidi nel nostro clima che impongono un cambiamento altrettanto rapido da parte delle politiche del territorio. È necessario, dice il presidente Neri, cambiare le regole di ingaggio all'interno dei consorzi di bonifica dando più rappresentanza agli agricoltori che conoscono meglio dei politici il territorio. E allora parlando proprio di consorzio andiamo con il prossimo servizio. C'è proprio un intervento che appunto va a mitigare il rischio idrogeologico. È un'opera ingegneristicamente molto complessa perché appunto si passa sotto l'autostrada senza mai interrompere il traffico e sostanzialmente è il rubinetto della Cassa d'Espansione di Pizziconi. Un'opera monumentale, quella di alimentazione della Cassa d'Espansione Pizziconi collaudata a dicembre 2020 nel comune di Fighine incisa a Valdarno a presidio del fiume Arno. A pochi giorni dall'anniversario dell'alluvione di Firenze poche ore prima che la violenta ondata di maltempo si abbattesse sulla Toscana il sopralluogo del presidente della regione Eugenio Gianni dell'assessore all'ambiente e alla difesa del suolo Monia Monni con la sindaca del comune di Fighine e incisa Giulia Mugnai. Un intervento complesso di ingegneria civile di un elevato costo di oltre 11 milioni e mezzo di euro strategico che permetterà di mettere in funzione la Cassa di Espansione di Pizziconi già realizzata e di connettere l'Arno alla Cassa e l'entrata delle acque di piena per ridurre il picco e le ondate di piena a valle fino a Firenze. Quindi di un'importanza e di una strategicità fondamentale per la riduzione del rischio idraulico. Con quest'opera che confidiamo di ultimare con la fine del 2024, tempo permettendo quindi in tempi di realizzazione anche molto rapidi, sarà possibile davvero regolarla come un'opera idraulica particolarmente evoluta. Anche oggi, ripeto, la Cassa è funzionante, invasa oltre 3 milioni di acqua ma quest'opera ci consentirà di gestirla nei tempi e nelle modalità di ingresso dell'acqua. Il luogo vi dimostra la complessità dal punto di vista ingegneristico. Gli scatolari sono grandi 15 metri per 6 metri e vengono spinti sotto l'autostrada senza fermare mai il traffico. Davvero un'opera anche affascinante dal punto di vista tecnico. E adesso siamo alla cronaca, si scaglia martellate e bastonate contro il fratello. Arrestato un quarantenne, il violento episodio lunedì scorso ad Arezzo a Largo, 2 giugno. I poliziotti lo hanno trovato seduto in strada, completamente nudo e sanguinante, con evidenti ferita alla testa e ai giarti. In manette, con le accuse di tentato, omicidio e rapina aggravata, è finito il fratello. È successo ad Arezzo lo scorso 30 ottobre. Tutto è iniziato con una chiamata al numero unico di emergenza 112. Un uomo richiedeva l'intervento delle forze dell'ordine. Mi stanno uccidendo l'allarmante segnalazione arrivata da un condominio di Largo, 2 giugno. Immediato l'intervento delle volanti della questura di Arezzo, guidate da Marco Gallorini. Gli agenti hanno rintracciato la vittima in strada, le hanno prestato il primo soccorso e hanno richiesto l'intervento urgente dei sanitari. Un'altra pattuglia è invece riuscita a rintracciare poco lontano l'aggressore, ancora in possesso di tutti gli effetti personali portati via al fratello, compresi i vestiti, nonché le armi utilizzate per il folle gesto, un martello ed un bastone. Dagli accertamenti successivi è emerso che già in passato si erano verificati degli episodi di aggressione nell'ambito familiare per i quali l'arrestato era già stato ammonito con un provvedimento del questore di Arezzo lo scorso marzo. Per l'uomo sono così scattate le manette in flagranza per rapina e gravata e tentato omicidio. L'arresto è stato convalidato disponendo la custodia a cautelare in carcere. Parleremo di calcio giocato nella seconda parte del nostro telegiornale perché c'è una decisione importante della Lega Nazionale dilettanti per quello che riguarda invece i professionisti. Decisioni legate al maltempo al momento non ce ne sono, quindi le gare si dovrebbero svolgere regolarmente. Quella però che l'Arezzo affronterà contro il Pesaro vedrà l'assenza dei tifosi a Maranto perché la trasferta è stata vietata. E allora Orgoglio a Maranto ha dato mandato all'avvocato Giulio Ciabattini di inoltrare un ricorso urgente al Tar delle Marche. Niente trasferta a Pesaro per i tifosi a Maranto. Questa la decisione è arrivata al termine della riunione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del Gruppo Operativo di Sicurezza che ha prescritto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Arezzo. In considerazione del grave comportamento posto in essere dai tifosi a Eretini in occasione della gara a Rezzo Spalzi legge è per evitare il ripetersi di tali gravi comportamenti con ripercussioni per l'ordine e la sicurezza pubblica. Una decisione temuta dopo che l'osservatorio aveva inserito la gara di domenica allo stadio Benelli nell'elenco di quelle che necessitavano adeguate misure di rigore. Resta comunque una brutta sorpresa per i tifosi a Maranto. L'Arezzo quest'anno era stato sanzionato dalla Lega in due circostanze, entrambe legate a gare casalinghe. 200 euro contro la Carrarese per cori offensivi verso le forze dell'ordine e 250 euro contro il Cesena per il lancio di una torcia in campo. Giovedì scorso invece ad Ancona l'esplosione di un petardo lanciato dal settore ospiti aveva raggiunto il giudice sportivo a richiedere un supplemento di indagine alla Procura federale ma oggi nessun provvedimento è stato ancora preso al riguardo. Secondo il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive alla base della decisione quanto accaduto in occasione della gara Rezzospal dello scorso 23 ottobre il Comitato Orgoglia Maranto ha preso la notizia del divieto della trasferta ha deciso di richiedere sospensivo urgente del provvedimento al TAR delle Marche. La provincia aretina è in difficoltà, non potrà assumere nuovo personale fino alla fine del 2025. L'allarme è della funzione pubblica della CISL di Arezzo. Ormai dal 2015 dice le province italiane si trovano sempre di più in una situazione difficile. Su questo fronte la funzione pubblica CISL aretina esprime forti preoccupazioni legate allo stato attuale della provincia di Arezzo e propone alcuni spunti di riflessione affinché si possano tutelare i servizi ai cittadini e i diritti dei dipendenti delle amministrazioni provinciali. La politica a tutti i livelli è responsabile di questa situazione, commenta il segretario della funzione pubblica della CISL di Arezzo, Maurizio Milanesi, la responsabilità dell'attuale situazione della provincia di Arezzo e non solo è da attribuire alle decisioni prese e portate avanti dalla classe politica nazionale a tutti i livelli. Non è possibile, dice ancora, pensare che per la mancanza di risorse la politica stessa possa attribuire le responsabilità al comparto amministrativo e tecnico. Non solo cultura, storia e tradizione per signare, sì è anche importante, la salute dei cittadini. Per questo questa mattina è stato inaugurato il defibrillatore che l'associazione ha vinto durante l'iniziativa del Saracino del Cuore, l'evento organizzato dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza non solo della diffusione capillare di strumenti salva vita ma anche della formazione per usarli al meglio in caso di necessità. Il defibrillatore acquisito grazie alla sensibilità del Rotary Club della provincia di Arezzo e che segna Arezia donato al comune di Arezzo è stato posizionato accanto alla sede dell'associazione in via Bicchieraia numero 30. Ieri 2 novembre una data particolare per il mondo dello spettacolo, sentiamo perché nel prossimo servizio. Era il giorno del suo ottantesimo compleanno, quel 2 novembre 2020, a ricordare a distanza di tre anni dalla morte Gigi Proietti, artista geniale, stronico e poliedrico è Alessandro Fioroni. Io a volte mi stupivo quando vedevo la gente che gli andava intorno e gli diceva l'autografo perché per me era uno di casa come lo erano tutti gli altri. Era infatti molto forte il suo legame con la famiglia Fioroni, storico quello con l'impresario Walter scomparso nel 2012 che aveva portato più volte Gigi Proietti ad Arezzo e poi con i figli Alessandro e Barbara. Il babbo di bello ci ha sempre avuto questo che ha sempre anteposto il rapporto umano al rapporto professionale. Per cui prima c'è sempre stato un rapporto umano, è quello che ho cercato nel mio piccolo di fare anche io, di coltivare prima il rapporto umano e poi il rapporto professionale, tenendoli su dei campi distinti ma non troppo lontani fra di loro. Oggi sarebbe stato il compleanno di mia mamma, che non c'è più ormai da tanti anni, e il compleanno di Gigi, il 2 novembre. E il 2 novembre è anche il giorno in cui Gigi tre anni fa ci ha fatto quel brutto scherzo di andarsene troppo presto perché aveva ancora tanto da dire, per me era il più grande di tutti e ci ha lasciato veramente un vuoto enorme che noi però cerchiamo di colmare coltivando la sua passione, la sua passione per il teatro, la sua passione per i ragazzi, per i giovani. Proprio in questi giorni ad Arezzo il caso vuole che al Petrarca vada in scena la replica del suo Romeo Giulietta nato al Globe ideato e portato avanti assieme ad Alessandro Fioroni. Profondo il legame di Gigi Proietti con Arezzo, tante le sue performance in città, altrettante le serate in compagnia di amici nei ristoranti aretini. Era un periodo molto lungo la cena perché te considera che Gigi normalmente faceva uno spettacolo che non durava meno di tre ore, per cui non si andava mai a mangiare prima del luna, per cui molto spesso la cena si confondeva con la colazione perché più di una volta siamo usciti dal ristorante la mattina alle sette, sette e mezza, anche perché il vero spettacolo non era quello che lui faceva in scena, il vero spettacolo era quello che lui faceva per gli amici, per gli intimi al ristorante, perché a una certa ora non si sa come, non si sa da dove, non si sa perché, ma o saltava fuori una chitarra o saltava fuori... e da lì si cominciava il secondo round. Per cui ripeto, parliamo di esperienze che io vorrei augurare a chiunque nella vita di poter fare esperienze di quel tipo lì perché te le porti dietro, te le porti dietro per sempre e affronti la vita un pochino più serenamente perché, come diceva lui nella sigla dell'ultima cosa bella, forse la più bella che abbiamo fatto assieme, Cavalli di Battaglia a Montecatini le quattro serate su Rai 1, la sigla diceva una risata ti aiuta a vivere e questo credo che si avrà veramente una grande verità e lui in questo credo che abbia aiutato a vivere tante 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 persone. E in questo fine settimana, ma al tempo permettendo, ci sarà anche l'edizione di novembre della Fiera Antiquaria, per questo sabato 4, domenica 5 novembre, la Casa Museo di Ivan Bruschi sarà ad ingresso gratuito, così come le Gallerie d'Italia in linea con le iniziative del Ministero della Cultura. L'apertura rispetterà gli orari 10.13.14.18. Domenica 5 novembre, invece, alle 17.30, il Salone delle Feste del Circolo Artistico di Corso Italia ospita la pittura incontra la musica, un evento collaterale alla mostra di pittura La Bellezza Discreta dell'Atavismo, allestita dal 28 ottobre all'8 novembre nel Piano Nobile dello Storico Edificio. Per l'occasione il trio Opera Viva si esibirà in concerto affiancato dalla live performance di Clemc. L'evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. E siamo allora a parlare di calcio. C'è intanto la decisione, come dicevamo, legata al maltempo del Comitato Regionale Toscano della Lega Nazionale Dilettanti. In solidarietà alle vittime del maltempo e a quello che appunto sta accadendo nelle zone della Toscana, flagellate dalle alluvioni, il Consiglio di Presidenza ha deliberato che tutte le gare che si sarebbero dovute disputare in questo fine settimana, compresi i posticipi del lunedì, verranno recuperate durante la pausa natalizia del weekend del 23 e 24 dicembre, ultima data utile prima dell'inizio del girone di ritorno dei campionati. Ed infine parliamo di basket. Domenica secondo turno casaringo consecutivo per l'AMNBC Servizi dopo la vittoria con il Castelfiorentino. Gli Amaranto sfidano il San Miniato domenica 5 novembre alle 18 al Palasport Estra. Anche San Miniato ha vinto l'ultima partita superando in casa il Sestri. Quindi un altro incontro importante appunto per gli Amaranto del basket. Questa era anche l'ultima notizia del nostro telegiornale e vi ricordo però di non cambiare canale perché questa sera andrà in replica proprio la vittoria appunto dell'AMNBC Servizi contro il Castelfiorentino. Dunque alle 21 davvero tra poco. Grazie per l'ascolto e arrivederci.